ragazzi io sono... non ero ancora a partire bello a tutti ragazzi io sono gioanchile e oggi siamo in questo nuovissimo video di parkour insieme al mio amico presentati amico amico va bene il mio amico è morto ahhh chubi chubi va bene allora signori oggi siamo spongebob e baldi non so manco io perchè eh si perchè ho fatto la intro ignorante sti livelli si possono fare in metro secondo eh signori state ammirando quanto sono bravo io nei parkour non fatevi ingannare da quella persona lui non è davvero bravo nei parkour vedi l'ho già superato anche mamma mia fatti come faccio io provo il challenge ma che ca... cioè io comunque non riesco a vedere niente perchè c'ho c'ho spongebob e baldi che sono giganti ma sai fai io sono morto apposta ehehehe ma io sono morto una volta amica me l'ha tolti a me what va bene vabbè comunque fino ad ora sti livelli sono abbastanza easy eh ah ma guarda che non devi per forza toccare in mezzo potevi anche toccare gli altri ma io stavo toccando tutto eh infatti pulì ah vabbè però almeno o vai e mo stavolta non c'ho più le robe brutte dove stai andando zio devi farti l'altro livello dove vai zio bravo zio grande zio che cade perfetto come non detto ma questi per me sono e vabbè state ammirando quanto sono diventato scarso con un misero parkour ebbene sì ma io non riesco a tenere la roba dritta perchè c'ho tutte le robe radios e robe così di merda avevo un po' di tosse non ho detto nulla ma non mi va ma a me non mi vanno i tasti ma perchè che gioco brutto non mi va niente si perchè a me non va niente mi vago tutto il tempo mi lag soprattutto giustamente ole finalmente ce l'ho fatta senza le lag e mi fa cadere che persona della della merda va bene infatti brutta merda togliti dal cazzo per fortuna ero un canale family friend fino a ieri però soltanto fino a ieri perchè ti non sai quanto sto e muori ma muori vai agli inferi vai agli inferi persona del madonna se mi facevi cadere tu sape tu sai che poi lunedì non eri a scuola perchè te eri morto togliti via battere via dio bono vieni qua stupido bibbi vieni qua stupido bibbi ecco bravo autocarma dai mo ti bullizzo io a te ti bullizzo ho avuto pietà ma sai che tu puoi anche camminare ma ti sei fidato di me davvero? ma come fai a farlo? che persona orribile ti fide anche mi sono rifidato aia cioè c'era c'era soltanto un buco l'ho anche preso quindi zio guarda che cadi zio cadi zio ma che ca... cioè io saltavo e cadevo tu non salti e non cadi ma che cazzo vada prima lei ma porco si quanto quanto sto godendo in questo momento la tua morte tu non lo sai nemmeno ma porco bravo che non bestemmia dovete sapere che nella realtà lui si chiama bestemmia soprattutto quando io lo faccio sclerare ma non solo e beh in tutto ciò tu dove sei arrivato perchè io comunque non sono mai morto porco 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 e demonio morto c'è tu sai che a me bastava soltanto fare un mezzo passo io avevo l'avevo preso il checkpoint giusto lo sai questo e infatti mi sta ci salendo un po' piano piano la sciabarabba potente aia la sciabarabba mi ha preso il cuore aia guarda siamo caduti in sincro che cosa carina ma porco dumbo morto il aido morto ieri sera mentre si faceva i pompini cosa fai cosa fai non mi fai cadere che ecco si la canzone di giurassi il pack porca di quell'altro però aspetta hai detto tro non hai detto trota ma porco dumbo morto il aido morto ieri notte mentre si faceva un pompino con giosucristo credo che questo video credo che questo video verrà censurato instant dai car stavo per dire un'altra parola poco io pensavo che era finito ho saltato un giro raga fatte fatte il parco senza di me eh per forza tu se te ne sei andato se vuoi eh infatti godo quanto sto godendo quanto godo madonna mia tu non sai adesso quanto io sto godendo dentro e anche fuori ma tu non sai quanto godo ce la so per fare ce la sto per siiii 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 godo godo schifoso l'idol furido scodo un botto guardati guardati soffri soffri lì bravo cadi cadi muori muori siiii devi soltanto morire ok ma vacci via ma vaffancore io intanto vedo secrerino dinasti la che si fa i suoi piccoli no ma tu appassi godo che non riesci a vincere grande secrerino dinasti bravo per me la fine va a finire che ti arriva pure avanti secreru ti arriva pure avanti mate e tu non riesci comunque a farlo dai che ce la fa 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 dai che ce la puoi fare però spero che tu non ce la faccia sei come la vita zio se ce la fai sai che mi arrabbio vero? tu sai che giustamente che se lo fai io mi arrabbio? eh? ciao vieni qui brutto bibi bibi stupido bibi stupido bibi vieni qui nooo sì sì vabbè e tanto io l'avevo fatto pure io l'ho fatto anche prima di te quindi però aspetta eh infatti aspettiamo Matteo bravo complimenti ma io riesco a farlo volendo perché non sono scarso tu sei scarso e non lo sai fare io queste cose non le so fare e infatti tu mi sei dietro io sono avanti a te perché sei battito prima non è vero questi sono dettagli che nessuno voleva sapere vedi? guarda godo godo come un maiale godo un botto stupido bibi madonna quanto sto godendo godo godo dai non ci sono altri cioè non ci sono altri aggettivi vabbè ogni tanto Matteo Spai si fa anche vivo ogni tanto però giusto ogni tanto Matteo ma quanto vi viene? i livelli sono facili ma infatti io mi sono già fatto tipo 20 livelli indietro sai qual è la cosa brutta che quando muori devi rifarti pure tutto perché infatti adesso sono di nuovo dietro di te ok però tu ho visto schiattare però tu ho visto schiattare che era abbastanza soddisfacente ciao buongiorno oh però guardalo Matteo guardaci ciao ma che cazzo muori ma che cazzo sei una persona di merda godo sto godendo tanto dentro il cuore e anche fuori e vabbè però mi fai cadere pure vabbè ma tutto ciò alla fine guarda che Matteo ci recupera non so se ti allora Gabri ascoltami aspetta stai fermo ascoltami perfetto allora Matteo è bravo nei parkour quindi se ci recupera lui mica ci aspetta come noi facciamo quindi io penso che non dobbiamo avere più di tanta pietà capisci no no aspetta intanto non lo farà mai il 19 giusto giusto allora signorini vi muovete a fare ste robe o io sono già andata avanti eh scarsi scarsi Dio Bonen paparà ci crederemo al primo giusto oh ma allora Matteo ce la fa o no? a che livello è arrivato Matteo? l'ha fatto al 20 è ancora al 19 no Matteo non si fa ciao zio dai Matteo che ce la fa eh comunque non è vero grande zio ma ce l'ha fatta subito lui eh si ma lui è da pc oh ma scusa non ci sta parlando cioè non parla è morto allora raga che se raga allora che si fa? sta morto oh raga oh però Matteo è grandissima che ha superato Gabriel attenzione attenzione si creerino dinastie attenzione si creerino delle dinastie attenzione attenzione oh finalmente si è arrivato eh buongiorno zio eh gli scarsoni sono arrivati la mandra si è riunita andiamo mandro di pecore andiamo a fare il pecorino ma l'abbiamo perso a Gabriel no no sono croco signori io e se creerino siamo troppo forti Gabriel no purtroppo dai dimmi dov'è sporco ok vada vada qual è? qual è questo? ok mi fa piacere è questo qua è questo qua ti volevo trollare non riesco manco a trollarti ok aspetta no aspetta stiamo fermi qua a vedere impazzire Gabriel sei fermo la dai Gabri no vabbè questo te lo dico è quello è il verde vabbè questo te lo dico ma che ca... ma noi abbiamo fatto verde quello ah no è vero era questo il verde su I'm sorry è questo il verde si è il verde verde si verdissimo però non vale alla fine cittare oh voi cittate troppo oh per intanto Matteo se n'è andato che bribbi che bibbi vabbè ah raga sono morto male oh ma pure lui mi ha superato ma che persone del cavolo perchè troppo ma secondo voi c'è bisogno di saltare? vabbè che cazzo dobbiamo andare ma che ca... non lo sapevo ma cosa dobbiamo fare signori? ma dobbiamo stare ma che cagata che cazzo di cagata? YOLO amici dove si deve andare? ok perfetto non la amici ditemi spoilerate ma che cazzo io ora... raga io qua ci muoio eh io qua ci perdo la testa 50 e 50 perfetto 50 e 50 è una merda allora a me però mi dovete aspettare ok l'ultimo l'ho anche citato eh no perchè io scusa sono i padroni del canale io vi faccio diventare famosi quindi mi dovete come minimo aspettare senti allora io li ho iscritti però intanto non li compro come fa io sono i padroni del canale si infatti tu sei il padroni del canale vi presenti il padroni del canale per le vostre famiglie no questo è il padroni del canale questo è il padroni del canale questo è il padroni del canale made in cina tra l'altro manco made in italy tu sei made in cina ma porca di quella cosa sì allora le bestemmie le evitiamo signorino cosa cazzo si deve fare? ma che cazzo cioè ma io non to' che muoio perchè sta vita è fatta male ma anche io qui iolo ok dove cazzo si va raga raga ma dove ma che schifo ma non si vedeva mai nella vita sta roba cioè si vedeva però non pensavo oh però intanto voi non avevi ah ma scusa ah ma Gesù ne è rimasto indietro e no Matte aspettiamolo ah no no Matte aspettiamolo oh bevino no sono serio Matte io non so scherzo madonnina cioè lui dice